ragazzi bentornati o meglio bentrovati o meglio e benvenuti su duck souls remastered perchè si allora predettiamo una cosa duck souls io sul mio canale portai se non mi sbaglio bloodborne fino adesso per quanto riguarda un souls lite non ricordo se portai anche duck souls 3 probabilmente sì nel caso fosse così vi lascerò uno screenshot comunque sono qui per portarvi una nuova serie o meglio un tentativo di serie vi spiego meglio in questo video è stato registrato il 26 di maggio ok tranne meno un mese uscirà ctr devo provare anche don't less o meglio l'ho già provato che è uscito praticamente due giorni fa però ci sono i server pieni e io sono sessantamillesima posizione non so come si dice comunque penso sia sessantamillesima qui devo aspettare sessantamila persone che si connettano prima di me e ci vorrà un po e quindi ho deciso a per perdere tempo facciamo un video su dark souls remastered provando a fare qualcosa di diverso o meglio per i miei standard nel senso non avendolo mai fatto prima d'ora o meglio avendolo già fatto privatamente cioè senza registrare video sulla precision 3 ossia una run a livello 1 però e aggiungo un bel però costantemente online usando costantemente le dita avvizzite ora chi non è del non conosce niente di dark souls vi spiego subito cosa sono le dita avvizzite è un oggetto in gioco che ti viene dato da un npc quando viene ucciso perché io lo ucciderò che ti permette di diciamo essere invaso molto più facilmente ma anche di trovare più facilmente delle invocazioni nel caso tu le trova ora a livello 1 non è detto che trovi gente che mi invada molto probabilmente non sarà così però il sistema di matchmaking dark souls remastered è un po strano nel senso non si invasa più di tanto sul livello del giocatore bensì sul livello delle proprie armi però vi spiegherò ancora al tempo creiamo il mio personaggio ovviamente gli diamo un bel nome che si può ricordare è un po che ci vuole mi raccomando ecco qua personaggio ovviamente maschio classe l'unica che è a livello 1 piromante faremo armi ovviamente del caos chi non sa cosa sulle armi del caos ripeto si vedrà tutto col tempo e non so se prendere la master key sa potrei prendere l'anello per darmi un po più di vita però la master key mi serve per prendere vabbè teniamoci la master key va vabbè average faccia ovviamente pelato ci mancherebbe vabbè common air air shade color black tanto non interessa accept e iniziamo subito schippiamo tutto proprio madonna ragazzi non sarà una speed run però meno tempo impieghiamo meglio è ovviamente saltiamo anche tutti i nemici che non ci serve uccidere la buona delle livelli cioè delle run a livello 1 è che non dobbiamo consumare anime per potenziarci beh si possiamo usarle tranquillamente per comprare oggetti e potenziarci le armi potremmo provare a uccidere quel signorino la sopra non so se lo vedete però faremo talmente pochi danni che ci vorranno almeno trentamila secoli prima che muoia quindi andiamo via da qui prendiamo lo scudo che non metteremo perché è inutile non serve a niente prendiamo l'arma e basta messaggio passa che andiamo l'accetta superiamo il nostro amico per tempo ci mettiamo l'ascia ok aia è proprio nel cuore me l'ha lanciata che bastardo apriamo qua sotto grazie potevo far cadere prima la palla però vabbè allora palla vieni qua perfetto tu muori ah già basta un colpo sì è inutile che li parlate perché tanto comunque morirà o meglio diventerà un essere vuoto perderà il senno vi attaccherà la prossima volta che rivisiterete questo posto quindi tanto vale ucciderlo subito prendiamo la mano della piromanza e la mettiamo alla mano sinistra aia che tega sai che c'è lo scudo mi serva che è comunque solo tipo da fare parry quindi non sono molto ecco infatti ci diamo al tizio con l'arco ok e ci diamo con questo giusto per completezza ah l'ha sciattato perfetto accetta non è proprio sto grange come arma però ce la faremo abbassare plunging attack tu sei proprio un merdone comunque mi raccomando non dammi la culata per cortesia hai grazie quanto danno faccio? è la peppa è la peppa è detto che sei un merdone spero che l'audio si senta non vorrei che c'è troppo bordello e sono costretto a passare il volume anzi c'è una cosa salvo la clip adesso così posso ascoltarmi ok a quanto pare l'audio si sente bene quindi possiamo continuare l'importante era quello no? non vorrei avere problemi con un'altra serie no? che insomma ho dovuto cancellare a metà del percorso perché microfono merda si sentiva male bastardo me la pagherei altamente non lo userò mai nella mia vita adesso sto usando le cuffie che uso col cellulare che sono della Xiaomi che ve le consiglio non costo nemmeno tanto le ho pagate 6 euro e 30 su Banggood però tanta roba ah già non devo livellare stavo per fare un'errore enorme allora prendiamo le umanità che useremo subito usiamo due di cui una per tornare umani e l'altra ce la terrimo per il follow più avanti allora this way prendiamo queste non fanno mai male per emergenza le terrimo comunque anche se abbiamo la piromanza non ci serve più di tanto ed ecco il mio tangelo d'obeso l'obeso sei proprio obeso quei capelli che sembrano una specie di melone tagliato a metà vabbè fammi diventare apostolo della via bianca dai eh sentite le campane qualcuno ha suonato le campane andiamo avanti prendiamo tutti gli oggetti che ci serviranno all'inizio del diciamo della partita anime oggetti armi tutto non ci facciamo scappare niente prendiamo l'arma definitiva anche qua ci troveremo l'arma definitiva no scherzo però sarà utile per i primi momenti di gioco eccola qua perché l'arma definitiva è sanguinamento quest'arma fa sanguinamento 300 di sanguinamento un po' la volta se zappi abbastanza i nemici fanno caput qua lo togliamo per evitare danni da caduta prendiamo un'altra anima scappiamo perché questi muoiono ah no 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 io sono bravo ho fatto niente ci servirebbe quello scudo che sta là più giù però preferisco evitare questi scheletri non hanno pietà di nessuno ci inseguiranno fine se vogliono fino a falò però noi saremo più veloci di loro ci andremo a sedere prima che ci vietino di poterlo fare ecco infatti come avevamo detto eh ah ok è caduto giù è fortuna che culo ok possiamo andare avanti allora prima di ogni cosa prenderemo quell'anello che si trova là l'anello del sacrificio che ci permetterà di poter morire senza perdere le anime almeno una volta per sicurezza non voglio rischiare quindi salteremo ecco qua e andremo bordo a bordo col muro per evitare di cadere giù anche se la caccaccia ti viene comunque perché è facilissimo cadere giù in questo cazzo di gioco veramente basta poco salto backstab ah peccato non ha fatto una buzzesi di sotto a questi li puoi anche evitare mi raccomando se si attende a quel tizio là sopra perché ti può spingere giù se vuole mancato ok tumori grazie di solito lui può anche darvi un'umanità può dropparvi un'umanità facciamo una piccola deviazione che non è intesa e non scendiamo giù perché c'è solo un'anima là sotto e non è convenevole insomma sprecare tempo per un'anima ahia mi faccia mamma no si calmi muro bastardo usiamo gentilmente la fiaschetta che c'è rivata da non so chi qualche tizio ci ha giftato una fiaschetta in modo talmente casuale yeah ha funzionato di solito aia con l'animazione ti stunna quando viene diciamo la viverna ti stunna e non ti permette di muoverti io sono riuscito a evitare che mi stunna se 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 perché tu non sei morto ok grazie si faccia la parte grazie prendiamo lo scudo che sta qua dentro che è leggermente meglio di quello che abbiamo noi ok ci protegge un po' di più tu muori grazie attiviamo il falò e ci non sediamo non ci sediamo italiano eh mi raccomando questo sconosciuto vediamo questi perché sennò ci danno fastidio più tardi ok ah tre colpi ok non so perché ok un colpo pesante e un colpo leggero ho tre colpi normali questo attacco da solo perfetto ok e adesso arriva la parte bella wey salve allora usate tutte le armi che avete conquistato fino in questo momento perché le dovete consumare per oggetti utili si si va bene allora la cosa più importante è queste questa anche se non serve più di tanto abbiamo la master key quindi questa non ci serve questa non ci serve questa per il momento no poi vi dovete prendere un arco questo se volete anche uno scudo nel caso non vi piaccia quello che avete però io personalmente va bene anche quello che avete preso cioè quello che ho fatto vedere io prendete una centinaia barra 150 frecce perché dovremmo fare qualcosa di molto interessante per ottenere un'arma OP fin dall'inizio che useremo a due mani perché mi sa che una mano sola non riusciamo a usarla perché è troppo pesante opzionalmente potete prendere anche l'armatura però siccome è pesante io non lo consiglio va bene anche questa qua e adesso facciamo una cosa brutta fateli entrare il sanguinamento oppure fate un parry e aspe ehi io ho premuto le due le due lo dico vabbè aspe ah già un attacco e un salto vabbè anche un backstep va bene beccustè bu ok 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 vi darà la chiave della residenza l'umanità e l'uccigatano questa purtroppo con le nostre abilità non possiamo usarla perché abbiamo bisogno di 14 e 14 di forza e destrezza e adesso se volete potete sedervi al falò cosa che farò in forza oh no si è buggato si è buggato è il bug del falò che risultato questo non è un bug legato ai 60 frame ma sul pc mica sulla console boh vabbò ok perry for life biatch vediamo questo ok ah ho droppato qualcosa oh bella papà dove sta ah cazzo ma ci vuole 10 di destrezza cioè una spadina fa meno danni di quella che abbiamo già adesso però ci vuole 10 di destrezza va bene makes sense adesso abbiamo una zona un pochino scassa che salto che ha fatto lì attenti che questo qua lancia le bombe e infatti ah mi ha mancato completamente perfetto di qui c'è la resina resina dorata che vi consiglio di prendere per quanto riguarda il boss che verrà un po' più avanti perché farete non solo danni da sanguinamento dopo un po' ma farete anche danni extra grazie all'elettricità se volete opzionalmente potete salire là sopra uccidere quelli che vi lanciavano le bombe e prendere quell'anima lì io la prenderò perché ripeto più anime avete meglio è perché a livello 1 gli unici modi che avete per poter andare avanti è potenziarvi il vostro equipaggiamento o trovare equipaggiamento migliore di quello che già avete senza ovviamente appesantirvi perché essendo a livello 1 non potete portare molto peso infatti 51 è abbastanza basso specialmente se volete fare fast roll per fare i fast roll dovete stare sotto il 30% a differenza di dark soul 2 e dark soul 3 che invece basta anche solo stare sotto il 60% 70 no 70 perché oltre il 30% su questo gioco si va in mid roll ora lo vedete quel piccolino cavaliere bambino piccolo che sta a livello solo di schiena guardando il vuoto cosmico pensando cosa fare della sua vita ecco lui da 4500 anime si è abbattuto l'unico problema è che è un toro nel senso se vi da un colpo siete KO in tutti i sensi ora noi abbiamo preso un anello che ti salva dalla morte e non è un caso se l'ho preso perché proprio per questo motivo io mi fullo la vita morirò malissimo però proveremo a fargli i perri con lo scudo più piccolo sperando che Dio ce la mandi buona ok non mi ha sciottato perché come avete potuto vedere ho preso danni provando a fare i perri ok ovviamente i danni che farete saranno minuscoli infatti 88 e qualcosa di imbarazzante ecco ho fatto un altro perri sbagliato e ho preso danni quando fate i perri nell'intervallo che fate i perri potete curarvi e fare un altro perri nel caso però dovete essere super reattivi perché se non lo siete morite quindi se non vi sentite abbastanza sicuri potete fare un perri aspettare che si alzi e subito dopo parare il primo colpo e poi fare un perri perché il secondo attacco è molto più prevedibile ed è molto più facile diciamo portarlo a segno se siete fortunati vi troppa anche l'arma altrimenti vi da solamente la tatena di chunk abbiamo preso l'anello che aumenta la difesa quando abbiamo le hp bassi però avendo talmente poca vita moriremo subito con uno o due colpi quindi è quasi inutile quell'anello qua potete o tornare indietro o rollare attraverso il barile però per sicurezza noi torneremo indietro quello non muore se cade da là anzi invece che ne abbiamo dato abbastanza danno ora qui sotto c'è un piccolo signore con un dildo gigante con l'arma che abbiamo noi i danni che faremo saranno abissali ci vorrà un po' però l'anello che vi darà sarà una mana dal cielo perché come ho fatto vedere prima noi abbiamo 51 di equipaggiamento massimo disponibile però questo signorino il signor Avel ha un anello particolare che mi permetterà di aumentare l'equipaggiamento perché io devo parlare mentre faccio le cose e non mi concentro comunque ok non c'è problema abbiamo l'anello che una volta morti si romperà e non sarà più utilizzabile ovviamente dicevo c'è un anello l'anello di Avel famosissimo anello di Avel che vi permette praticamente di aumentare il post equipaggiamento che potete portare e torniamo a riprenderci quell'anello o meglio riprenderci conquistarlo metterò la velocità di questo video nel senso skipperò avanti perché ci vorrà tanto tanto potete fare anche un altro gusto usare la resina per aumentare i danni cosa che farò io ma giusto per aumentare un po' la velocità perché sennò qua passiamo veramente i secoli mi raccomando evitate il primo colpo perché sulla scala è quasi difficile fare un perry ecco vedi già fai molti i tuoi danni 100 sì no 104 penso per carità fare i perry al dito gigante è molto facile perché è lenta come arma l'unico problema è che se ti distrai perché non ti concentri ti sciotta comunque ci vogliono un minuto di 5 minuti per farlo fuori evita quando fa quel backstep quel backstep assolutamente evitate di fargli i perry perché fa un attacco in salto e io mi sono distratto e sono morto vabbè sai che c'è schippiamo direttamente quando finisce sta storia per cortesia allora mi ricordo male io ce l'abbiamo fatta alleluia 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 oh la madonna allora trimilanime e lamello che aumenta vertiginosamente l'equipaggiamento massimo trasportabile e ce l'abbiamo fatta abbiamo recuperato le umanità abbiamo recuperato le anime abbiamo guadagnato un anello assolutamente indispensabile a livello 1 e soprattutto abbiamo riguadagnato la nostra dignità che era la cosa che avevamo perso prima per due volte consecutivamente comunque vabbè mi raccomando non dimenticate di ottenere le titaniti da questa lucertola perché ricordo sono importantissime anche se non faremo un'arma con la titanite scindillante per fare armi del caos e del fuoco non serve la titanite scindillante ma quella verde e quella rossa ovviamente e adesso viene signorino gugliermo del toro gugliermo del toro che se non state attenti vi apre il culo in due non è difficile perché è comunque un nemico base più là nel gioco ma all'inizio e soprattutto a livello 1 chiunque è un pericolo anche i nemici più deboli insomma per carità lui non è un nemico debole ma a confronto con altri è decisamente qualcosa di meno pericoloso allora il mio consiglio è portatelo al centro e fatevi attaccare il più possibile sperando che lui si getti da giù oppure provate a fare sanguinamento io ne caglia io però doggiato oppure non gettatevi voi giù è il pericolo che succeda è elevatissimo potete pararvi perché un colpo riuscite a gestirlo però non di più un colpo solo se volete curarvi basta allontanarvi tanto lui vi raggiungerà provate a fare un attacco in sacco infatti e potete curarvi ovviamente quando è lontano vi attaccherà sempre con un attacco in sacco sempre matematico proprio provate sulla piromanza però mi sa che lui non prende la piromanza ah invece si non mi ricordavo lo potete lo potete stunnare facilmente anche quindi e entra questo ruinamento perfetto come avete visto è una cacata se state attenti e tenete botta riuscite a batterlo facilmente qui c'è un'anima che prendiamo subito salutiamo un vecchio amico e ci lasciamo per il primo episodio perché voglio prima vedere come va voglio vedere se verrà accettato bene oppure no ciao Soler quanto sei splendente guarda sei proprio una testa di pandoro eh si si ovviamente voglio esserti amico ci mancherebbe chi non vuole amico Soler chi non vuole esserti amico chi fammi conoscere chi è quello che ti odia fammi vedere chi è chi fosse cioè io poi sono Aglie Brazzorf cioè ci mancherebbe che sono amico tua eh io sono non solo Zoppo ma anche la Cecilia quindi è ovvio che sono un amico tuo eh e poi una cosa che adesso mi fa venire in mente che quando diventi non morto non solo diventi Cecchio ma perdi anche i bulbi oculari quindi che cosa c'è di meglio eh insomma vabbè scherzi a parte spero che vi sia piaciuto il primo video mi raccomando ho provato a fare il più cazzaro possibile perché comunque Dark Souls può essere un gioco pesante nel senso non c'è molto da dire il gioco comunque non è tutta sta bellezza in senso gioiosità si intende vabbè il gioco è estremamente bello basta guardare gli scorci guardi che guardi che roba guardi 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 vi metto il primo episodio il link del primo episodio per quanto riguarda la serie che sta facendo il mio amico Dan 1109 su Dark Souls remastered sempre giusto per così fare anche due risate con lui magari capito vedere anche i video dalla parte sua dalla sua prospettiva e niente al prossimo episodio pusillanmi ed è Dauntless sicuro sicurissimo grazie